Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika. Come avete visto dal titolo, è video dove vi mostro tutti i kit, set, scatole, tutti i miei pastelli, tutti quelli che ho. Poi magari vi farò un video recensione più avanti di varie marche, di quello che mi trovo meglio nel disegnare, nel colorare, insomma, ecco. Adesso vi parlo un attimino così, mentre ve li faccio vedere, preparatevi comodi perché sono tantissimi, non so neanche da dove iniziare, ho parecchie scatole di metallo, poi ho parecchie astucce, un portapenne. Prima vi faccio vedere questo che ho qua a portata di mano, questi qua sono gli ultimi che avevo preso, mi pare, sono lì per non mi ricordo, che erano quelli della carioca, questi qua, color pastello. Avevo preso insieme ai pennarelli, chi mi segue lo sa, si ricorda, comunque li vendevano col back to school, 2,99 euro, li avevo presi, sono 3, 6, 9, 12, con tutte queste sfumature qua di color pastello. E adesso aspettate che li metto via qua, nel mio portapenne, quasi così, ok. Poi vi faccio vedere quelli che ho nel portapenne, poi andiamo in tutti gli astucce e le scatole di metallo. Questo è un portapenne fatto dal mio marito, ecco scritto Nikai, ecco la stampante 3D. E qui ho dentro un po' un misto qua, ho dentro ancora dei color pastello, che questi qua sono macaron presi su Aliexpress. E hanno questi colori qua, infatti sono legati con l'elastico, perché sono tutti un set. Poi qui ho dentro un pochino di giotto, questi qua sono quelli che compro sciolti in cartoleria, questi qua col nero, perché arriva dentro il color pelle che uso parecchio. Poi ho preso altri rosa, vedete questi sono tutti i giotto, questi qua che sono Supermina, sono bellissimi questi. Questi qua sono veramente super pastelli, dopo ce ne sono altri molto belli, non è che è l'unica marca che io adoro, eh. Questi sono tutti giotto, poi ho parecchi, ho un set dentro qua, però è tutto mischiato. Non so come posso farvi vedere, aspettate. Questi che sono della Faber-Castell, dopo io ogni tanto li tolgo, li uso, vedete, però dopo li rimetto dentro, c'è tutto il mio mischiotto qua, io ormai mi so girare. Ecco questi qua sono ancora giotto, sono tutti quelli che ho preso così, così, così. E qua ci sono invece tutti questi, ecco uno mi è caduto, lo raccolgo dopo. Questi sono i Faber-Castell, questi qua, eco, che sarebbero ecologici, roba del genere. Ecco qua, questi, tutti i colori sono questi qua, di cui io non mi è caduto in terra, che non so di che colori è, perché non lo so, meno male che il mio cane è di là in sala, non l'ho preso in testa, poi era stella. E non mi ricordo neanche quanti erano nella scatola, 3, 6, 9, qua ci sono già più di 12, perciò non lo so, sarà stato forse le 24, vedi che ci sono altri due verdi, un altro, poi invece qua cosa sono, questo qua, è un evidenziatore quelli, no, questo è un altro giotto che andrebbe qua. Insomma, ho anche quelli un po' fluo, ecco, ho dentro tutto un misto, un pastellone, poi ho dentro degli stabili, vedo che questi qua non sono molto belli, poi ho anche dei cariochi, c'è dentro un misto un po' di tutto qua, ogni tanto quello che ho lì che ho portato a rimanere, vedete questo ho già usato parecchio, il Tiffany, poi qua c'è un altro fluo, questi sono quelli fluo della giotto, che erano tre o quattro colori, un altro rosa, che uso tanto per il viso, e poi, ecco qua, che c'ho ancora altri due qua, della Faber-Castell, poi vabbè, c'ho questi della Bic, che non sono molto, non mi convincono molto, faccio un po' fatica ad usarli, qua c'è un altro giotto che ho usato, qua c'ho dentro un po' di questi qua, fatti così, aspettate che li ho messi al contrario, a me non mi piace, devo vedere le punte dei pastelli, non so come mai, ma io sono così, eccoci qua, e qua vabbè, tutti i miei giotto, questi qua che sono veramente stupendi, e questo portapenne l'abbiamo visto, aspettate che lo metto qua, adesso partiamo con piccoli set, di cui uno è questo, che ho preso da Tiger, una collezione insetti, che aveva dentro questi sei colori, cui ho temperato rosa, li avevo usati, non è che, che sì, normali, non è che, non è quella cosa pretenziosa, però non fanno proprio schifo, ecco, poi avevo anche questo, la scatola in latta della collezione estiva, questa qua con le conchiglie, anche qua ci sono, tre, sei, nove, dodici colori, che non ho ancora provato, forse ho provato il rosso, però sì, normale, niente di che, niente di speciale, ok, e anche questo, visto, poi, in questo astuccio, del lama, preso da Tiger, ho dentro questi, che avevo preso da Lidl, e sono tutti questi qua, grossi, della marca United Office, della Lidl, sono questi qua, mega grossi, che, se vi interessa, adesso vediamo un attimino, che hanno, sono belli pastosini, e non sono male come pastello, si sfuma anche un pochino, perché, a parte che, sapete che io uso il blender, perciò, e non sono male, ed erano dodici, se non sbaglio, e hanno dei bei colorini, in quel set lì, il blu è molto bello, anche l'arancio, il rosa, sono molto belli come colore, infatti ne avevo presi due scatole, perché costavano 2,99 euro, se non sbaglio, e a me il pastello così grosso mi piace, perché sapete che io uso, dopo vi faccio vedere quelli che uso sempre, anche per disegnare, ecco, allora, questo, visto, scusate, ce la facciamo, eh, poi, appunto, quelli che io uso sempre per disegnare, e ne ho una scorta qua, in questo astuccio nuovo, perché quello che sto usando di là sono tutti più corti, però questi sono quelli di scorta, sono i miei fantastici Stabilo Trio, che sono questi, perché l'ho detto che sono grossi, tipo come quelli, e io questi pastelli qua li adoro, ne ho fatto una scorta, perché uso tanti pastelli che ho, però la maggior parte delle volte quando disegno adesso sto sempre usando questi, perché mi ci trovo stra bene, e sono appunto questi qua, che mi vedrete nel disegno con voi, se non li avete visti, andate a vedere, uso questi, poi sì, ho fatto anche disegni con il Prismacolor, che poi vi faccio vedere, perché ho anche quelli, e anche quelli sono dei signor pastelli, sono veramente bellissimi, scusate, chi guarda i miei video con le cuffie, con questo fracasso qua, poverino, il storbisco, altro che ASMR, mamma mia, scusate, non ho diventato, e questi ci sono quelli di scorta, poi, altro astuccino, ho questo qua, preso da Talga, con la collezione Nikoni, dove ho messo dentro questi, che sono un color pastello, belli chiari, li avevo presi su Aliexpress, e anche questi qua hanno un bel colore, bello pieno, vedete che è molto, e sono molto belli, mi piacciono tantissimo, poi ho preso questo sette, questo è un sette, questo è un altro, questi qua sono tutti quelli un pochino metallizzati, ecco, non so, neanche si veda chissà che cosa, però, sono metallizzati, ci sono questi colori, l'oro, l'argento, poi c'è il bronzo, il viola, il verde, e qua c'ho dentro questi, faccio un pochino la svelta, perché sennò qua vi tengo fino a domani, può esserci a chi fa piacere a chi no, questi li abbiamo visti, questi li abbiamo visti, poi ho questo che ho preso nella collezione Tigre, che anche questi sono tutti i classici pastelli di Tiger, che non sono malvagi, non sono dei migliori, sono sincera, però non sono malvagi, e non colorano male male, e ci sono questi colori, sono 3, 6, 9, 12, in questa scatoletta qua, della Tigre, poi, con la collezione quella Circo, Luna Park, quella che avevano fatto, non potevo non comprare questo, che non l'ho ancora temperati, come vedete, però sono anche questi tutti i pastelli colorati, che non ho ancora provato, e questo è un altro scatoletta, poi, in questa scatoletta qua, dove c'era il kit qua, stencil set qua di Tiger, io ci ho messo degli altri Prisma Color, che questi erano un prima color un po' particolare, a parte che si li ho usati, vedete qualcosa, l'ho usato, ma non mi piacciono, non mi piacciono, non si sfumano bene, dicevano che erano per i contorni, poi io ho la scatoletta di Prisma, che vi faccio vedere dopo, ma, sì, i colori sono belli pieni, bello come mi piace a me, bello intenso, ma si spaccano in continuazione e non mi piacciono, però, vabbè, ce li ho qua, per fare qualcosa, comunque vengono sempre buoni, infatti, adesso vi faccio vedere i miei amati Prisma Color, questi, adesso mi sono un attimo bloccata ad usarli, perché mi piange il cuore, li ho pagati tantissimo e tempera, 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 e mi dispiace vederli calare così, però sono stupendi, hanno un costo eccessivo, vedete che io li ho usati nel disegno con voi, tutto si vede, qualcosa, e dopo mi sono interrotta, e certo ci li ho qua, devo usarli perché li userò, non è che non li userò, e sono stupendi, poi guarda caso, è un pastello molto bello, molto cremoso, pastoso, e si sfuma bene col blender, ma anche da solo, è un colore e l'altro insieme, tutto, però cosa c'è? Oltre ad essere bello e tutto, si spaccano anche questi, anche se questo però è il colore molto più bello degli altri, non c'entra proprio un cavolo, ma purtroppo si spaccano molto facilmente e li consumi come se non ci fosse un domani, cioè vedete che colori, io poi adesso vi prendo un blender, quello che c'ho qua, che non è della Prisma, io c'ho gli ocoli della Prisma Cola, e si sfumano, sono una cosa, sono belli insomma, ecco, il suo prezzo lo valgono per carità, anche se è un po' eccessivo, ma d'altronde i pastelli sono questi, sono molto molto belli, a me piacciono tantissimo, se non sbaglio le avevo pagate 48 euro, quella scatola qua, da 72, se non mi ricordo male, comunque siamo lì, 50 euro ti parte, e questi, wow, top dei top, poi altre due scatole, adesso sempre da tagliare, ho preso questi, e anche questi qua, avevo provato il marrone, molto intenso, c'è bello pienotto anche qua, al colore non sono male, questo, poi avevo preso questi acquarellabili, vedete che sono tutti neri, però cambia la punta, e qua c'è l'arancio, e anche questi qua, sì, dopo farlo, sono acquarellabili, sono da provare, e voilà, ecco questo qua, poi qui c'ho il mio stucciotto, che mi vedete sempre usare quando faccio il disegno con voi, che adesso un po' che non lo fate, devo anche farlo, perché so che tante di voi vi piace, qui ho dentro, un po' tutto un misto, tra, allora, giotto questi qua, e gli stil nuovi, questi qua doppi, bicolor, che hanno due colori, aspettate che mi tolgo, sono dentro un misto, qua vedete, anche qua, vedete, questi sono i miei stabili, quelli che uso, e questi qua sono tutti giotti, di bicolore, poi ho qualcosa ancora di tiger, sono tutti quelli che, che si vede, che uso, corti, corti, però ho le mie scorte, come avete visto prima, aspettate che adesso metto via tutto l'ambaradan qua, eccoci qua, e questo, siccome ha due cegnere, qua ho dentro i miei fantastici trio, che, vedete, sono tutti belli cortini, però, ho quelli di scorta, che vi ho fatto vedere prima qua dentro, perché questo pastello qua io lo adoro, e qua ho dentro tutti, di questi qua, anche forse qualcosa di diverso, sì, ho anche questi qua che non so, da dove arrivano ancora, forse ancora di tagli, e vedete che sono tutti abbastanza cortini, mezzi corti, metà, meno della metà, tre quarti, insomma, perché comunque è l'astuccio che prendo, uso sempre quando coloro, quando faccio i miei disegni, ecco qua, poi, dove siamo arrivati? Ok, qua, poi qui ho questi, messi dentro in questa scatola, perché avevano la scatola di cartone, e questi qua sono gli Stadler, che sono quelli che si cancellano, forse, non mi ricordo, comunque me li ha regalati mia figlia, non lo so, che ce li aveva lei, dopo non li voleva più, non lo so, comunque non sono male, hanno questo qua che salva la punta, non mi ricordo come si chiama, e sì, hanno un bel colore pienino, però neanche questo non è che sono, non sono i Prismacolor, ecco, però vabbè, non sono male, guardate che bello anche questo colore, non è male male, e sì, stende bene, è bello pieno colore, vedete che bello anche l'azzurro, molto bello, no? Per quello sono belli. Li ho messi dentro in questa scatolina qua, perché la scatoletta di cartone, come al solito, la Nica è molto delicata, quando le apre la staccata, li ho messi dentro qua, poi arrivano questi, che mi ha regalato una persona molto speciale, la mia Cri, ciao Cri tesoro, al mio compleanno dell'anno scorso, mi ha regalato Lira, questo set di pastelli qua, meravigliosi, sono super stupendi, adesso prendiamo fuori il colore, e andiamo a provarlo, insieme, e hanno una scrivenza, cioè guardate, come passate, non lascia neanche le rigate, neanche niente, riempie bene proprio tutto il suo spazio, sono meravigliosi, questi sono della Lira, bellissimi, ciao Cri, qua, poi ho le ultime tre scatolotte giganti, poi spero di non aver lasciato in giro niente, perché non dico portapenne quello, ma che vada, se mi sono dimenticata qualcosa, non credo, perché li ho messi tutti insieme nel cassetto, quando ho sistemato la postazione, comunque se volete, andrei a vedere dove li tengo tutti, c'è il video postazione, allora, questi che mi ha regalato il mio figlio, stabilo, acqua color, e sono questi acquarellabili, che però anche questi, allora, sono belli, li ho usati, come si vede, però, sono così temperati tanto, perché non è che li ho usati un po', ma non esageratamente, perché si spaccano anche questi, si devono temperare in continuazione, però anche questi colori sono belli pieni, sono molto belli, come pastelli, però si spaccano, il difetto che hanno, che si spaccano come niente, la temperi si spacca, la temperi si spacca, e insomma, ecco, però, anche i colori sono molto belli, il pastello è bello, e la marca è buona, ecco, poi, ultime due scatole, ma non da meno, allora, questa, della Crelando, che avevo preso, 3,99 euro, se non sbaglio, dalla Lidl, ecco, non ricordo bene adesso, sì, dalla Lidl, e sono queste meraviglie qua, che inizierò a usare, perché voglio provarli, dopo ve ne parlerò, adesso vediamo, lo capisco, anche dalla stesura, da come riempie, sì, non è male, non sono male come colori, però, non sono di quelli migliori, lo sapete anche voi, però, dai, insomma, ecco, sono tantissimi colori, e anche molto belli, come vedete, al prezzo che avevano, ho detto, sì, li prendo, chi se ne frega, presi, e poi, l'ultima scatola, è ancora di Tiger, dove ci sono tutti questi, anche questo costava mica tanto, allora l'ho presa, adesso non mi ricordo quanto, è il classico passello di Tiger, che è con la sua forma, con la sua T, cambiano tante volte le scatole, ma il pastello l'è sempre Kale, detto Bergamasco, e sì, se dovete usarli così blandi, come pastelli, di tutti i giorni, non sono male, e riempiono bene, guardate, no, anche i colori sono abbastanza belli, dai, dopo io non so descrivere bene, io ho la sensazione quando coloro, capito, ecco, dopo ditemi voi, se avete, anche voi, qualcosa che ho io, fatemi sapere nei commenti, voi come vi trovate, e niente, io per averlo detto, i migliori sono i miei, questi qua, che vi ho detto prima, i miei, questi qua, Stabilo Trio, questi qua, triangolari, sono i migliori, quelli della Lira sono il top, e poi vabbè, il Prismacolo, che dire, non si può, non, non amare il Prismacolo, perché sono veramente, bellissimi, e questi, niente, sono tutti i miei pastelli, per ora, dopo, ve ne parlerò magari, in un video, devo fare, appena c'ho tempo, devo fare, un video dei top e flop, di tutta la mia cartoleria, farò magari, quello delle penne matite, e poi quello dei pastelli, dove vi dico, top e flop, anche se adesso, qualcosina, insomma, abbiamo sbocciato qua insieme, sbocciato, abbiamo provato qua, un pochino insieme, la prima impressione, a tatto, a scorrevolenza, insomma, chi usa i pastelli, tanto lo sa, cosa vuol dire, appena li provi, appena senti come colorano, ecco, le prime impressioni, un pochino ve l'ho dette, poi ve ne parlerò di più, se vi fa piacere, se avete voglia, farò un altro video, ah scusate, stavo dimenticando, altro portacolori di pastelli, e anche questo, che è questo fantastico, innaffietoino, bellissimo, che mi ha regalato la mia Cree, e anche questo, è pieno di pastelli, dove ho, anche qui, i miei stabilo trio, poi ho degli altri Stadler, questi qua, con ripara punta, qua che non mi ricordo, va in nome, e poi, ho dentro ancora altri Stadler, poi, altri quelli normali, Stabilo normali, insomma, un po' tutto, un misto, anche Stadler, però, ho parecchi, dei miei preferiti qua, i Stabilo trio, e, se l'avevo di sopra, non potevo non farvi vedere, anche questo, perché sono altri pastelli, che ho, ciao ciao, alla prossima, adesso penso proprio, di avervi fatto vedere tutto, credo di sì, ciao ciao, aichнOi, aichnOi, 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 aichnOi,